Buongiorno, nuova video lezione ed è finalmente l'ultima sul libro di seconda, quindi unità 19, la Bella Epoch. È un capitolo abbastanza lungo ma molto semplice. Allora, parla soprattutto di questa Bella Epoch, che è una bella epoca letteralmente, quindi un'epoca di grande gioia, entusiasmo, serenità. A che cosa è dovuta la Bella Epoch? Sostanzialmente a quella che è stata chiamata la seconda rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale era stata quella avviata dall'Inghilterra, diciamo all'inizio del Settecento, con la nascita delle prime industrie e delle prime macchine a vapore. La seconda rivoluzione industriale, invece, poggia su due grandi, diciamo così, invenzioni che cambieranno completamente il mondo. E sono l'invenzione del petrolio e l'invenzione dell'elettricità. È proprio attorno a queste due grandi invenzioni che cambia radicalmente il modo di vivere delle persone, il modo di lavorare, l'economia, eccetera. Andiamo ad analizzarli uno per uno. Allora, prima di tutto, quindi, la seconda rivoluzione industriale è caratterizzata dal petroglio. Petroglio che viene praticamente iniziato a... viene scoperto e si inizia a utilizzarlo a metà del 1800. Vedete, 1858, le prime trivellazioni avvengono in Pennsylvania, quindi negli Stati Uniti. Quindi, il petrolio è considerato alla stregua dell'oro, viene chiamato oro nero perché diventa subito un bene preziosissimo. Bene è tanto più prezioso proprio perché, grazie all'invenzione del motore a scopio, che funziona appunto con derivate del petrolio, come ad esempio la benzina, darà grande importanza all'oro nero e darà via una grandissima rivoluzione nell'industria appunto meccanica con la costruzione di autoveicoli e aeroplani, quindi velivoli. E' in questo periodo, infatti, a fine del 1800 che nasce, ad esempio, in Italia la Fiat, Fiat che significa Fabbrica Italiana Automobili Torino. Datevi semplicemente un'occhiata a questo approfondimento, dice due cose in più sulla più famosa industria automobilistica italiana. Il secondo elemento che caratterizza la seconda rivoluzione industriale è l'elettricità, quindi fino a, diciamo, la fine dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, non esisteva l'elettricità. Pensate ad esempio che l'illuminazione pubblica nelle grandi città avveniva con lampade ad olio, che erano poco performanti e molto, molto, molto inquinanti. Quindi, praticamente, la scoperta dell'elettricità nasce quando si scopre che la caduta di una cascata d'acqua può essere trasformata in energia elettrica, quindi l'acqua può azionare delle turbine che creano energia elettrica. È l'inizio di una grande rivoluzione, una rivoluzione soprattutto per quei paesi, pensiamo comunque anche all'Italia, che non possedevano giacimenti di carbone e di petrolio e che quindi possono iniziare a usare l'energia elettrica come alternativa a queste due forme di energia. L'elettricità diventa un bene comune quando nel 1879 Edison, grande inventore, ha inventato molteplici, ha brevettato molteplici invenzioni, mette appunto la lampadina. L'illuminazione elettrica anche nelle città può prendere il posto appunto di quella a gas. Londra è la prima città che viene completamente illuminata grazie all'energia elettrica. L'energia elettrica cambia anche il tipo di lavoro, lavoro che si era svolto quasi esclusivamente di giorno, tranne che nelle industrie siderurgiche, ora permette l'apertura a ciclo continuo di quasi tutte le fabbriche. E quindi le fabbriche lavorano appunto 24 ore al giorno, gli operai devono accettare i turni di lavoro di almeno 10 ore. Una terza caratteristica della seconda rivoluzione industriale è la nascita del Taylorismo, cioè l'idea della divisione del lavoro. Si chiama Taylorismo da Taylor, che era uno studioso, un ingegnere, che aveva capito come le industrie, le fabbriche, potevano funzionare meglio se si divideva rigidamente il lavoro in fasi di fabbricazione. Praticamente ogni operaio era solo più responsabile di un piccolo elemento in una grande catena di montaggio. In poche parole, la divisione del lavoro funzionava in questa maniera. Se devo costruire una macchina, prima di tutto devo costruire i singoli pezzi. O perlomeno, se sono un'industria che assembla solamente, vedete impianto di assemblaggio della fabbrica Ford, se io assemblo, devo assemblare una macchina, allora dividerò le fasi di assemblaggio della macchina in una serie sempre uguale e metodica di azioni. Ad esempio, separatamente monterò il telaio, monterò la scocca, quindi la parte esterna, monterò le ruote, monterò l'impianto elettrico della macchina e così via. All'interno di ognuna di queste fasi, ogni operaio era responsabile di una sorta di azione sola. Ad esempio, gli operai che montavano il telaio sarebbero stati suddivisi in operai che montavano i pneumatici, montavano i cerchioni, operai che montavano gli assi e così via. In poche parole, il lavoro viene rigidamente suddiviso. Nasce infatti quella che conosciamo come catena di montaggio. Catena di montaggio che permette una produzione seriale, quindi in serie, molto veloce, di centinaia o migliaia di pezzi al giorno, ma che in qualche modo svilisce la mano d'opera. Mano d'opera viene livellata verso il basso. Il lavoratore non doveva avere una particolare qualifica per compiere delle azioni ripetitive e sempre uguali a se stesso. La prima fabbrica che applica le teorie di Taylor e la catena di montaggio è la Ford, che esiste ovviamente ancora oggi, fondata da Henry Ford a Detroit, una delle più importanti industrie automobilistiche del mondo. Una quarta caratteristica della seconda rivoluzione industriale è il fatto che tutte queste scoperte creano un nuovo clima, un clima che va dal 1890 al 1914, data dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, un'epoca di spensieratezza, di ottimismo, soprattutto per i più ricchi. Infatti chi ne gode non sono tanto gli operai, quanto i borghesi medi e medio-alti. Perché? Perché si parla di ottimismo, i progressi scientifici, tutte le invenzioni che vedremo nel prossimo paragrafo, l'imperialismo, cioè i paesi europei che creano nuove colonie e dominano praticamente il mondo, il rinnovamento nel campo della cultura e quindi l'aumento dell'istruzione pubblica, ma anche il rinnovamento artistico, la nascita di correnti artistiche nuove, danno questo senso di fiducia nei confronti del futuro e della vita. Naturalmente la seconda rivoluzione industriale non è solo invenzioni e ottimismo, rimangono escluse molte fasce di popolazione che hanno dei problemi che le società e i governi di questo periodo non risolvono. Soprattutto li vedremo nel terzo paragrafo i problemi degli operai e del ruolo della donna nella società. Tutto questo porterà grandi scioperi, grandi manifestazioni di protesta che spesso si concluderanno con vittime e quindi delle manifestazioni molto gravi e pericolose.